da babele alla macedonia riprendiamo dopo la pausa estiva torniamo qui in diretta con don villi con il suo percorso che insieme fa con noi attraverso le letture la parola di dio la parola che in qualche modo sconfigge ogni babele ogni confusione delle lingue quindi torniamo alla parola di dio e questa domenica che è la ventiduesima domenica del tempo ordinario e qui parliamo di vocazione e la cosa strana è che si parla di vocazione con dei termini che hanno a che fare con l'amore corporeo la seduzione no geremia parla e dice signore tu mi hai sedotto io mi sono lasciato sedurre c'era un mio maestro che diceva che non non c'è come il cristianesimo è la religione più materialista lui diceva cioè proprio nella concretezza della vita quando uno viene sedotto viene sedotto nel sentimento nella nella emozione si lascia prendere tutto e quindi anche il corpo segue le emozioni i sentimenti quando uno è sedotto è la persona che viene presa dentro un vortice di passione che a volte irrefrenabile ed è interessante che il profeta geremia usi questo linguaggio così di una concretezza passionale per dire quello che io sento nei confronti dell'altra persona che mi seduce e dello stesso temperamento dello stessa intensità di quando io parlo con dio perché dio mi seduce con le stesse connotazioni si potrebbe dire così e quindi la vocazione cristiana e di questo e di questa temperatura di questa intensità e di questa valenza nel vangelo gesù dice chi tenterà di salvare la propria vita la perderà chi invece perderà la propria vita la salverà quando uno viene sedotto da un'altra persona e quindi viene collocato dentro questo vortice di amore se è vero questo amore se questa seduzione ha veramente qualche cosa che tocca la vita la modalità è quella del dono non è quella del dominio e quindi quando uno si lascia sedurre dalla bellezza o comunque dalla complessità di dell'intelligenza di cuore di una persona si consegna e consegnandosi consegna tutto se stesso quindi perdere la vita vuol dire vuol dire perdere la testa evidentemente era in modo ragionevole e razionale ma comunque un perdere è un perdere la propria vita è un consegnarla è un essere come dire così affascinato da chi gli sta davanti che non possa non consegnarsi perché tutto quello che di bello e di buono e di prezioso c'è meglio te lo do questa esperienza che gesù racconta quello che lo aspetta ha a che fare con questa consegna non con il fatto che è meglio star male o essere crocifissi posso raccontare questo brevissimo episodio quando romano guardini questo grande genio pedagogico a un certo punto una un momento di crisi nella sua vita insieme al suo compagno di studi dice altrettanto in crisi dice ma cosa dobbiamo fare e aprono il vangelo e appare proprio questa questa frase no che se non do la mia vita a chi lo dovrò dare però questa è stata la domanda a chi la devo consegnare e dire e lui dice ma se la consegno a dio dio ancora un qualche cosa di troppo vago io la devo consegnare a qualcuno che possa nello stesso tempo accogliermi nell'amore ma anche provare la sofferenza di questo amore e dice lo dovrò consegnare alla chiesa e quindi la consegna non è solamente a un dio astratto è una realtà concreta di persone che mi richiamano e sono il volto di dio dove l'amore non può non andare di pari passo a volte anche con la sofferenza che poi il segno di un amore autentico